salve benvenuti in una nuova puntata di studio noesis oggi continuiamo le lezioni del corso di filosofia moderna parte 2 e iniziamo a parlare del romanticismo del movimento romantico abbiamo finito cante e ci riallacceremo a fichte in mezzo c'è questo periodo storico che prende l'avvio dalla fine del settecento e prosegue per la prima metà dell'ottocento e di fatto segna potremmo dire pone le basi per quelli che saranno la modernità cioè per quello che sarà tutto il 1900 il romanticismo infatti crea un cambio di passo e si contrappone che cosa si contrappone al monopolio totale della ragione noi avevamo visto gli illuministi infatti molto spesso il romanticismo viene opposto all'illuminismo come movimento e vedremo infatti i tratti salienti per cui il romanticismo si oppone come movimento che non vuole o vuole rifiutarsi di ridurre la la filosofia a ragione il pensiero a ragione a mera razionalità come aveva fatto di fatto canta cioè canta aveva detto ciò che noi possiamo dire di conoscere è ciò che viene indicato come tale dalla ragione crede ragione pur la prima critica poi canta aveva scritto altre due critiche una sulla sulla morale e una sulla estetica quindi sul sentimento del bello che qua viene esaltato tantissimo i romantici dicono non ci basta c'è il solo la ragione solo l'intelletto non basta per completare l'uomo lo lascia mozzo lo lascia monco lo lascia vuoto non va bene dobbiamo trovare qualcos'altro e che cos'è che si impongono di fare i romantici trovare questo qualcos'altro ecco che allora ci sono diversi movimenti ovviamente noi non parleremo di tutti il romantici perché sono centinaia di nomi metteremo in risalto alcuni nomi che avrete già sentito e non parleremo della loro filosofia parleremo sostanzialmente dei tratti comuni e dei tratti che hanno denotato i personaggi di cui andremo a parlare in questa puntata e nella prossima oggi parleremo soprattutto di due movimenti di natura letteraria uno di natura letteraria uno più strettamente filosofico ma comunque quando si parla di romanticismo diventa difficile separare la filosofia dalla poesia dall'arte dalla musica cioè da tutti questi settori diventa davvero difficile perché qui la ragione viene messa da parte cioè la ragione va bene la ragione ha effettivamente aiutato l'uomo in diversi ambiti della sua vita ma qui ora è arrivato il momento di parlare dell'uomo nella sua completezza allora viene riscoperta la fede viene riscoperta la facoltà del sentimento e anche a volte la facoltà dell'intuizione mistica quindi di questa capacità di entrare in rapporto con un trascendente la ragione ci descrive il mondo immanente ci descrive il mondo della materia ci descrive il mondo che ci circonda ma c'è sono altre facoltà che ci mettono invece in contatto con una dimensione divina con una dimensione che sta al di là della natura metafisica appunto mi dice la parola stessa c'è un movimento filosofico che nasce in germania e prende proprio il nome di filosofia della fede che proprio di ripristinare di muovere una critica cante si occupa i tre personaggi principali sono john georg amman erder e il mio preferito jacobi frederick jacobi questi tre pensatori proprio vogliono riscoprire una dimensione della trascendenza in maniera particolare perché i romantici non sono sostanzialmente il grosso dei romantici non sono credenti in maniera tradizionale non fanno parte di chiese precostituite c'è anche un movimento di cui parleremo nella prossima puntata di questo tipo ma i filosofi della fede sono effettivamente pensatori più singolari che fanno filosofia appoggiandosi più su un'idea di panteismo panteistiche proprio amman che è il fondatore del movimento della filosofia della fede critica cante lui non era un filosofo di professione faceva penso il guardiano alle dogane e però si interessa fonda questo movimento sarà in contatto con tantissimi pensatori di questo stampo dello stampo legato potremmo dire al movimento dei romantici ed effettivamente la sua linea è proprio questa c'è sostenere che cante ha descritto una parte della realtà c'è il potere della ragione come potere descrittivo ma non ha espletato finito di descrivere le facoltà umane i poteri dell'essere umano nella sua completezza lui infatti descrive la ragione come qualcosa che l'uomo si è abituato dopo l'illuminismo a idolatrare come se fosse un dio cioè con la ragione noi siamo capaci di tutto e invece amman ci viene dicendo che la ragione è utile ma è uno strumento limitato e che la vera facoltà che permette all'uomo di espletare tutti i suoi tutta la sua essenza è la fede è con la fede che l'uomo riesce a raggiungere potremmo dire uno stato conoscitivo del divino totale completo l'uomo deve riscoprire questa sua funzione deve riscoprirsi come fedele anche erger mostra dei tratti panteistici ma cerca il suo tentativo sarà quello di far unire cristianesimo e panteismo come innanzitutto critica cante perché ha separato materia e forma perché ha creato un dualismo ha creato appunto una duplice realtà potremmo dire invece per ha creato il regno nella prima critica la seconda critica è il regno della ragione il regno della moralità per erdere sta tutto insieme erdere riprende lo studio di spinoza spinoza è un interlocutore fondamentale di questi autori spinoza sarà studiato tantissimo da jacobi da hegel da tantissimi autori e spinoza sostanzialmente cosa affermava affermava la sostanziale unità di natura e spirito quindi non ci sarebbe un mondo trascendente non ci sarebbe un al di là non ci sta non c'è qualcosa che sta al di là della natura una metafisica c'è qualcosa che sta al di là della fisica ma spirito e natura sono un tutt'uno questo è uno dei tratti anche del romanticismo cioè la natura è come un essere vivente la natura è come una forza organicistica che vive di vita propria non è semplicemente come abbiamo anche noi oggi un'idea della natura in termini meccanicistici come individui o come potremmo dire composizioni di più creature viventi o composizione biologica di più sostanze ma per i romantici c'è questa visione organicistica della natura ma se da una parte abbiamo il mondo della natura dall'altra abbiamo il mondo della storia al mondo della storia degli uomini e qui entra in gioco il cristianesimo il cristianesimo una sorta di conversione una sorta di paradigma è la religione dell'umanità dice erder ma non tanto perché lui ritenga che sia più vera di altra religione ma semplicemente perché per erder incardina al suo interno i valori morali estetici eccetera che sono il fulcro potremmo dire è la meta definitiva che va raggiunta da tutta l'umanità quindi il cristianesimo adeguatamente incrociato con le istanze spinoziane di cui abbiamo detto quindi unione tra natura e spirito potrebbe essere preso come paradigma quindi non semplicemente il cristianesimo come status quo il cristianesimo come paradigma di insieme di valori morali eccetera potrebbe essere preso come religione dell'umanità per erder e poi infine il terzo filosofo più interessante dei trami in modo di vedere jacobi jacobi probabilmente è il più arduo sostenitore del irrazionalismo la ragione è un solo strumento la sua connanna a differenza degli altri due pensatori abbiamo visto lui prende le distanze dal panteismo ed è un teista completo quindi sostiene l'idea di trascendenza cioè dio non è semplicemente una forza immanente alla natura c'è dentro la natura non si configura non si potrebbe dire identifica con la natura ma dio è qualcosa che sta di là al di fuori natura c'è c'è una dimensione trascendente c'è una dimensione invisibile soprassensibile come direbbe platone e così jacobi ogni tentativo di raggiungere dio con la ragione è un tentativo sbagliato errato non potrà mai andare a buon fine tutte le dottrine filosofiche razionalistiche per jacobi sono dottrine atee sfoceranno nell'ateismo quello che dice devo arrivare dio solo utilizzando la ragione fallirà sicuramente questa è la teoria di jacobi tanto che dice spinoza e la dottrina filosofia di spinoza è la migliore in assoluto tutte per quanto riguarda le dottrine atee anche se spinoza non si è mai ritenuto ateo jacobi lo ritiene un filosofo ateo tutte le dottrine filosofiche razionaliste sfociano nell'ateismo e dice jacobi in quale ateismo però nell'ateismo spinoziano perché dice jacobi o noi scopriamo dio con la fede con l'atto di fede che è una facoltà contrapposta alla ragione quindi è vero noi nel mondo utilizziamo la ragione ma quando ci rapportiamo a dio dice anche o usiamo la fede come fa il cristiano oppure nel momento in cui vogliamo far tutto con la ragione innanzitutto dice jacobi ci asserviamo a un nostro strumento la ragione cioè diventiamo schiavi di una nostra facoltà quando invece le nostre facoltà ci servono per implementare la nostra la nostra conoscenza del mondo non per limitarla come aveva fatto kant appunto che con la ragione creava dei limiti ma diceva quando con la ragione vogliamo fare tutto creeremo delle dottrine filosofiche che per definizione escluderanno la trascendenza quindi sfoceranno nell'ateismo e quindi sfoceranno nello spinozismo perché il sistema di spinoza è il sistema ateo per eccellenza il meglio riuscito e quello insuperabile e questo è davvero molto interessante se osserviamo cosa dice jacobi soprattutto per coloro che conoscono la filosofia di spinoza e infine parliamo di un movimento di fatto letterario che prende il nome di sturm o drang tempesta e impeto che prende il nome di maximilian klinger del 1776 e fondamentalmente è un movimento che vede due grandi protagonisti al suo interno c'è tutto un movimento di letterati poeti artisti che si muove quindi sarebbe un discorso molto più ampio da dover fare ma noi ci limitiamo semplicemente due più grandi protagonisti schiller da una parte e gote dall'altra schiller scrive lettere sull'educazione estetica dell'uomo che è l'opera un po di riferimento perché dà una grande valenza un grande potere all'estetica schiller scrive ovviamente ha scritto tantissimi testi è di fatto un poeta un letterato eccetera ma scrive e ha messo al centro proprio della sua ricerca questo aspetto dell'estetica cioè l'estetica ricopre un ruolo importantissimo all'interno della metafisica la ragione e ritorno un po il tema che abbiamo già visto anche negli altri filosofi la ragione non può bastare scrivere la realtà la fede e il sentimento sono quelle facoltà umane che ci aprono alla vera realtà del mondo che ci aprono la trascendenza che ci aprono ciò che sta di là dalla realtà schiller parlerà soprattutto dell'istinto sensibile dell'istinto della forma che sono questi due specie distinti che prendono vita dalla nostra parte razionale della mente dalla nostra parte più fisica quindi più materiale quando l'uomo riesce a mettere insieme queste due parti di sé scopre lo stato estetico che è quello stato che apre libero gioco che rende possibile l'opera d'arte quindi ci rende creatori e in quanto creatori di opera d'arte creatori di bellezza quindi creatori questo stato estetico ci rende simili a dio per quanto riguarda gotte invece il messaggio è più che estetico quindi estetico sensibile più legato a un messaggio naturalistico ovviamente di gotte conosciamo la sua grande opera che è il faust dove appunto viene elogiato questa idea della 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 tecnica questa idea del rapporto che lega l'uomo la tecnica e la natura ma lo lega proprio in questa idea semplicemente non meccanicistica dell'uomo che sfrutta la natura o dell'uomo che vede la natura qualcosa da consumare ma è lo sviluppo tecnico per l'uomo è qualcosa che lo lega la natura che lo fa entrare in contatto con la parte più profonda di sé uno dei concetti chiave che si sente appunto un po rimbombare all'interno delle opere di gotte è proprio questa idea di streben di sforzo cioè l'uomo è in costante sforzo in questa idea di dominio della natura ma un dominio che non è solo sfruttamento ma è un tentativo di mettersi in contatto con l'essere originario mettersi in contatto con questa trascendenza per dirgolette immanente alla natura stessa perché gotte riprende un po questa idea panteistica della realtà ma è un tentativo di un punto di mettersi in contatto con questo grande organo che rappresenterebbe la natura con questa vita sotterranea che scorre all'interno del mondo naturale ultimo personaggio cui parleremo prende il nome di humboldt questo pensatore è di fatto l'inventore della moderna scienza del linguaggio attraverso la lingua attraverso la creazione perché anche la lingua dice questo pensatore anche la lingua è creazione l'uomo attraverso l'espressione di nuove parole esprime un potere creativo che permette di descrivere qualsiasi realtà dalle realtà sensibili materiali alle realtà invece più invisibili trascendenti metafisiche questa capacità del linguaggio viene poi analizzata all'interno delle opere di questo pensatore ma non ci soffermeremo troppo perché nella prossima puntata andremo a vedere tanti altri personaggi e soprattutto andare a creare delle correlazioni tra romanticismo maturo questo è un po sono un po gli albori questi personaggi sono un po le figure su cui si fonderà successivamente i caratteri principali del romanticismo ma sono potremmo dire figure che all'interno di una storia della filosofia come la stiamo facendo noi sono un po figure transazionali che ci aiuteranno non tanto in sé sono autori estremamente interessanti ci aiuteranno principalmente a capire quel passaggio che lega cante con fichte quel passaggio appunto che crea quell'unità tematica tra il criticismo gantiano e l'idealismo due linguaggi attualmente diversi due climi culturali attualmente diversi proprio perché in mezzo ci sono passati questi autori di cui abbiamo parlato oggi io spero che la puntata sia interessata noi ci sentiamo una prossima lezione sempre per finire il movimento romanticismo del romanticismo in tutte le sue parti iscriviti al canale se interessano questi contenuti e noi ci sentiamo appunto la prossima volta grazie mille